Grazie a tutti. A tutti gli effetti è un 8 marzo dedicato anche alle vittime di guerra, alle donne di guerra in Ucraina e non soltanto, naturalmente, guerra che non hanno scelto loro. Io do subito la benvenuta alla nostra prossima ospite, Elsa Fornero, ex ministro del lavoro e professoressa Università di Torino. Buon pomeriggio, ben ritrovata, grazie mille per aver citato il nostro invito. Buon pomeriggio a lei. Direi un 8 marzo che deve essere di riflessione per tutti. Non può essere una festa perché non c'è motivo per festeggiare questo 8 marzo, ma c'è molto motivo per riflettere e anche per agire. Nel senso di auspicare che questa guerra finisca in qualche modo in tempi brevi e che i profughi possano trovare una sistemazione dignitosa con l'aiuto di tutti noi. Assolutamente sì, una sistemazione dignitosa per le donne e non soltanto, naturalmente, perché sono coinvolti anche bambini, anziani. Insomma, si tratta comunque di una crisi piuttosto importante per l'Europa. Intanto facciamo rapidamente il punto sul mercato del lavoro in Italia, giusto per capire quali sono i miglioramenti a cui abbiamo assistito nel 2021, dopo un 2020 che possiamo tranquillamente chiamare anche disastroso un po', ovviamente anche a causa della pandemia. Vediamo il cartello 1, i dati dell'Istat sull'occupazione. Bisogna dire che la disoccupazione generalizzata in Italia attualmente all'8,8% è migliorata ovviamente la situazione. Stiamo vedendo anche l'occupazione femminile al 50,5% con un incremento dello 0,3%. Bisogna dire che rispetto all'occupazione femminile a livello europeo lascia ancora desiderare, ma non da sottovalutare, questo miglioramento a cui abbiamo assistito appunto nel 2021 e questo miglioramento a cui stiamo continuando ad assistere nei primi mesi del 2022. Senta, le chiedo questa discrepanza che possiamo vedere ancora dal nostro cartello tra l'occupazione femminile e maschile in Italia, a suo avviso è anche dovuta all'istruzione, cioè l'istruzione che sta alla base di questa problematica? Non direi, perché oggi le donne, le giovani donne in particolare, sono più istruite degli uomini e hanno anche valutazioni nei percorsi scolastici migliori. È vero che forse i percorsi scolastici incontrano meno la domanda di lavoro da parte delle imprese e questo è un aspetto sul quale bisognerà molto lavorare e come sa si tratta di incoraggiare le donne che per motivi culturali sono state tradizionalmente scoraggiate nel frequentare le discipline cosiddette STEM, le discipline più scientifiche, le discipline più matematiche, quelle che sono più legate alle scienze dure, alle scienze vere e non alle discipline sociali. Allora lì c'è molto di atteggiamento culturale anche all'interno della famiglia, perché spesso sono le famiglie stesse che suggeriscono ai maschi di frequentare ingegneria e alle ragazze magari di frequentare una scuola che le porta a essere maestre o insegnanti o comunque in attività di tipo assistenziale, magari sono anche le famiglie, però le ragazze hanno le stesse capacità degli uomini e i risultati oggi li dimostrano. Quindi non è la scuola a prevenire l'occupazione delle donne a livello di quella maschile. Ci sono molti altri fattori, se vuole poi ne parliamo un momento. Senta, un punto a mio avviso importante è proprio quello che ha menzionato lei, cioè lo STEM, ovvero questo indirizzo che è più verso la scienza, magari la matematica, la tecnologia, che ci saranno naturalmente più sbocchi di lavoro nei prossimi decenni, questo senza alcun dubbio. Nel frattempo le volevo chiedere se a suo avviso il governo, il governo attuale, sta facendo abbastanza per promuovere l'occupazione femminile, a questo punto includo anche l'occupazione giovanile insieme ovviamente al PNRR. Anche qui guardi c'è un misto di fattori, sicuramente le politiche servono, ma non dimentichiamoci che molte volte sono state cercate e introdotte nel passato, ma hanno dato scarsi risultati per inefficienza, per inefficacia, perché sono state subito superate da altre cosiddette riforme e così via. Quindi oggi con il PNRR abbiamo un'occasione importante ed è uno degli obiettivi, anzi l'obiettivo di valorizzazione, di annullamento delle disparità di genere, è un obiettivo cosiddetto trasversale, che tocca quindi tutte le linee strategiche e tutte le cosiddette milestones del PNRR, che come sappiamo tutti ha un'articolazione molto complessa. I fondi ci sono, possono essere non sufficienti, però poi ci sono altri capitoli, per esempio la costruzione di asili nido, che è un elemento molto importante nell'occupazione femminile, perché se le donne non sanno dove tenere i bambini piccoli, questo può essere da un lato un problema rispetto all'avere figli e dall'altra un problema rispetto a mantenere l'occupazione che si ha o a trovarne una. Quindi poi c'è il sistema fiscale, noi abbiamo un governo che ha promesso una riforma fiscale e anche attraverso lo strumento fiscale si può pensare di favorire il lavoro delle donne e quindi ci sono molti strumenti, però poi c'è un atteggiamento e per me l'atteggiamento deve essere che la nostra società deve dare valore, un valore importante, un valore sociale e civico all'autonomia economica delle donne, perché se le donne pensano che essere, come dire, assistite da un marito, da un compagno, da un padre e comunque basti, questo le lascerà sempre indietro. E quindi questo è un fattore che riguarda molto gli uomini, riguarda molto le donne, riguarda la società tutta, valorizzare l'indipendenza economica delle donne. Ecco, tra poco andremo ad affrontare anche il problema demografico, ma giusto per capire quali sono i motivi per la riluttanza delle donne italiane a fare figli, a mio avviso, i figli sono, non solo a mio avviso naturalmente, ma i figli sono il futuro del paese e non soltanto il futuro del mondo. Però prima volevo finire con i numeri che abbiamo a disposizione, anche se possiamo vedere il cartello 2, giusto per capire ancora le differenze tra gli uomini e le donne. Stiamo vedendo, questi sono gli ultimi report, alcuni dati sono appunto della Consop, altri dati sono di Eurostat, ancora il gender pay gap in Italia nel 2021 rimane al 5%, per la precisione è al 4,7%, noi abbiamo deciso ovviamente ad arrotondare il numero e ci tengo a precisare che anche qui se andassimo a fare un paragone di 10 anni fa è in netto miglioramento. Ora sono state introdotte anche delle normative ben precise sulle pari opportunità e come possiamo vedere invece le donne nei CDA delle società quotate a piazza affari ammontano al 41%, solo 2% di questo 41% però sono effettivamente a posizione amministratore delegato che ammonta ovviamente a 15 società per la proprio piena precisione. Come mai le donne non sono alla guida delle società e c'è ancora questa statistica, che lascia desiderare? C'è una resistenza molto forte nella condivisione delle posizioni di potere da parte degli uomini, cioè essere in posizione di comando per un uomo è considerato una cosa naturale, per una donna è considerata una situazione piuttosto eccezionale e quindi non solo la donna deve dimostrare di essere molto più brava per poter aspirare, mentre un uomo si pensa che più o meno se occupa una certa posizione vuol dire che è capace, nessuno gli chiede di dimostrarlo, a una donna si chiede molto di più di dimostrarlo e c'è un atteggiamento ancora di sottile discriminazione. Ora qui bisogna dire che la legge ha fatto molto perché, come si dice, o si prova con le buone maniere oppure si dà una spinta forte e la spinta forte è arrivata con la legge che ha detto che nei consigli di amministrazione bisognava arrivare almeno al 30%. Ricordo che anche alcuni colleghi economisti allora avevano detto, ma dove sono tutte queste donne capaci di essere amministratori di una società e figuriamoci la stessa domanda non l'hanno mai chiesta, non l'hanno mai posta prima nei confronti di quegli uomini che stavano nei consigli di amministrazione spesso senza fare una domanda, qualche volta senza neanche leggere i documenti e però si pensava che fossero capaci. Quindi ci vuole la determinazione delle donne ad affrontare più difficoltà che non gli uomini. e ci vuole naturalmente anche la legge che qualche volta superi gli ostacoli culturali o di esercizio del potere, perché in questi casi si tratta di una manifestazione di esercizio del potere da parte degli uomini. Ecco, vorrei naturalmente affrontare il discorso demografico e il problema demografico che sta affrontando l'Italia e non soltanto. Giusto per essere precisi vorrei citare una statistica, anzi nel corso della nostra diretta abbiamo fatto vedere più volte il grafico. Il numero medio di fili per donne in Italia risulta pari ad 1,24, il livello più basso dal 2003 secondo il report istat del 2020. Facciamo questa ovviamente precisazione. Le volevo chiedere se ecco questa riluttanza delle donne italiane di fare figlie è legata anche un po' al lavoro, il contesto lavorativo, il fatto che magari si entra sul mercato del lavoro un po' più tardi. Perché ci tengo a spiegare ai nostri telespettatori che anche nelle regioni, come per esempio la Lombardia, dove l'occupazione femminile è sui livelli più alti rispetto magari del sud, la natalità rimane bassissima. E cioè, come mai secondo lei? Allora, questo è un problema molto complesso e quindi individuare una causa sola vuol dire stare sulla superficie. È un problema anche strutturale, un problema di lungo periodo, che riguarda anche il sistema di valori dei singoli, ma anche della società. E se io dovessi dire la nostra società, il nostro paese, si è molto concentrato sul breve termine nei decenni passati. In una situazione di declino economico, il declino demografico è stato, come dire, la controparte quasi naturale. Se non si vede futuro, un futuro che migliora, si finisce anche per pensare che avere dei figli sia magari anche egoistico. Qualcuno pensa che perché mettere al mondo dei figli se poi il mondo è fatto così e non da loro chance. Ci sono tanti fattori complessi. Sicuramente aiutare la famiglia, aiutare le donne che lavorano, cercare di stabilire un'effettiva parità nella genitorialità. Quindi c'è la madre, ma c'è il padre. E il padre ha responsabilità che, al di là delle differenze di natura, non sono diverse da quelle di una madre. Non si capisce perché il padre non possa fare, e molti giovani uomini oggi lo fanno, le stesse cose che fa una madre quando un bambino è piccolo, compreso dargli la pappa e compreso cambiargli il pannolino. Oggi, un tempo, una volta questo era proprio considerato assolutamente ambito femminile. Quindi gli uomini si consideravano sminuiti nel fare queste attività. Oggi, per fortuna, le cose cambiano, ma bisogna agire su molti fronti, molti fattori. Non bastano le misure di politica economica, però ci vuole molto cambiamento nell'atteggiamento delle persone e bisogna che il Paese recuperi una prospettiva di medio-lungo termine. Vedere un futuro. Se vedi il futuro, allora avere figli ti sembra naturale. Se non lo vedi, perché farli? Ecco, vorrei fare il punto anche sulle pensioni, un punto altrettanto importante a mio avviso, anche perché fa parte di questo pacchetto di riforme che dovrebbe fare il governo Draghi, riforme molto difficili, soprattutto per trovare un accordo tra la maggioranza. Tra queste riforme c'è appunto le pensioni e la guerra in Ucraina ha congelato i lavori, almeno per il momento, girano ovviamente voci che probabilmente inizieranno dalla seconda parte di marzo e dovrebbero iniziare tanti altri lavori per la verità che prima erano sospesi per le presidenziali in Italia, che erano particolarmente politicizzate per diversi motivi. Dunque, detto ciò, l'unica certezza paradossalmente rimane quota 100, che era forse il punto più discusso tra i diversi partiti. Alcuni non erano d'accordo, altri erano d'accordo. Per il momento sembra l'unica certezza, poi bisogna vedere come andrà invece a finire la riforma per il 2022, perché ricordiamo che quota 100 sarà valida soltanto entro la fine del 2022 e poi bisogna vedere come si andrà avanti. Le chiedo un parere, in qualche modo il sistema pensionistico danneggia i giovani? Allora, intanto quota 100 non c'è più, non c'è più neanche quest'anno. Quota 102, sì. Si parla di quota 102 che è stata presa come una misura transitoria rispetto al riprendere un cammino che quota 100 aveva interrotto. Certo, faceva piacere a tutti dire andiamo in pensione prima, però noi abbiamo parlato anche in questa nostra intervista della bassa occupazione che c'è nel nostro paese, che non è bassa occupazione solo delle donne, è un basso tasso di occupazione del paese nel suo complesso. La Germania ha un tasso di occupazione che è di 10 punti percentuali più alto del nostro e non è una piccola cosa. e questo vuol dire in termini di produzione, di reddito, di consumi, di benessere delle famiglie e delle persone. Allora, quota 100 ha voluto dire molti soldi usati per lasciare che persone che arrivavano a questa famosa quota che sommava l'anzianità e l'età potessero andare in pensione. non si tratta delle persone che da un punto di vista sociale erano, per così dire, più meritevoli di un pensionamento anticipato, perché sappiamo che i lavori usuranti, gravosi, i disoccupati, le persone che hanno un bisogno del loro tempo per attività di cura all'interno delle famiglie e queste persone, dal punto di vista sociale, possono andare in pensione prima. Ma dal punto di vista dei quotisti cosiddetti, si è trattato di un favore molto elettorale che è stato fatto loro. Quindi io penso che noi abbiamo tanti bisogni in questo paese, veri bisogni. Uno di questo è di far lavorare un po' di più le persone perché abbiamo un grande invecchiamento. E qui c'è la grande mistificazione. Si pensa che fare andare in pensione prima serva a fare l'occupazione dei giovani. Non abbiamo tempo adesso di parlarne, ma i dati dimostrano che diversamente da quanto il governo giallo-verde aveva sostenuto, non c'è stata la sostituzione di anziani con i giovani. E quindi si è verificato invece una diminuzione del tasso di occupazione complessivo. E invece quello che vediamo nei paesi dove l'economia funziona, lavorano di più sia i giovani sia le donne sia gli anziani. Questa idea della sostituzione fuori tu che entro io è un'idea che è stata provata molte volte in passato e che non funziona. Ci lascia tutti un po' più poveri. Quindi ci sarà un incontro. Io credo che sia giusto intervenire sulle categorie più meritevoli dal punto di vista sociale. Però mi auguro che il governo non proceda di nuovo all'indietro rispetto a riforme che sono state molto anche osteggiate, ma che comunque avevano dato risultati in termini di equilibri. E quando si dice equilibri, e in particolare equilibri finanziari, si pensa sempre ma che importanza ha l'equilibrio finanziario. Invece no, perché vuol dire esattamente favorire le generazioni future, anziché ribilanciare un pochino il contratto tra generazioni che nel sistema pensionistico era squilibrato. liberato. Ecco, questo era un punto piuttosto importante. Intanto vorrei specificare che mi riferivo appunto a quota 102, non a quota 100. Non so se ho fatto qualche lapsus, però diciamoci la verità, c'è poca differenza tra quota 100 e quota 102 per la piena precisione nei confronti dei nostri telespeditori. Ultimissima domanda per chiudere la nostra bellissima chiacchierata in questa giornata così speciale. Innanzitutto le chiedo se il governo Draghi è il governo delle pari opportunità, perché si sperava tanto. E poi le chiedo un augurio, cioè un proposito per le donne in questo momento così speciale. Quando dico le donne non intendo le donne d'Italia, le donne specie quelle in difficoltà. Allora, guardi, il governo Draghi ha certamente una sensibilità forte nei confronti del tema della parità di genere. E questo è una bella cosa e dobbiamo sostenerlo tutti, perché guardi, ci sono molti, me lo lasci dire, falsi profeti in questo ambito. Molte persone che dicono sì, sì, è un tema importante, ma lo dicono perché pensano che sia impopolare dire diversamente. E poi nei fatti si comportano come hanno sempre fatto, e cioè con delle discriminazioni sottili. E queste persone vanno stanate. E io penso che l'azione del governo possa contribuire a fare questa operazione di trasparenza e di chiarezza. L'augurio alle donne. Io penso che ci sono troppe donne nel mondo che sono ancora prive di libertà fondamentali, compresa la libertà dal bisogno. E le donne che non hanno questa libertà non hanno forse neanche le altre e quindi sono ancora in una condizione che le tiene in qualche modo soggiogate al potere maschile, al dominio maschile. Quindi il mio augurio è che le donne conquistino più spazi di libertà. Libertà di istruzione, libertà di pensiero e di espressione di questo pensiero. Libertà di scelta del lavoro, libertà di scelta del marito, perché sappiamo che in certi paesi neppure questa è consentita. Queste sono le libertà fondamentali che ancora oggi a troppe donne sono negate. E io auguro che possano, senza metterci anche troppo tempo, conquistare queste libertà. Io la ringrazio. Grazie mille. Elsa Fornero, ex ministro del lavoro, professoressa Università di Torino. Grazie per essere stata con noi, grazie per il suo contributo alla prossima occasione. Buona festa della donna. Anche a lei. Buonasera a tutti. Grazie. E dunque ci lasciamo. Brevissima pausa obbligitaria. Rimanete con noi sulle fonti TV. Grazie.